Le vedove che è presenti in aula, gli diamo la parola. Prego a lei. Grazie Presidente per ricordare quanto è accaduto ieri a due nobili servitori dello Stato, l'ambasciatore Attanasio e il milite Iacovacci. Ieri per qualche secondo l'Italia si è fermata. Siamo tutti inginocchiati di fronte a quanto è accaduto a due nobili servitori dello Stato. Ci hanno colpiti distanti a migliaia di chilometri, ma ci hanno colpiti... Chiedo scusa per l'interruzione, l'ho fatto apposta cenno affinché lei mi potesse guardare. Le ricordo che sta, come del resto, da lei richiesto, svolgendo il suo intervento per richiamo all'ordine dei lavori. Giusto? Volevo motivare, però... A posto. Prego, prosegue e chiedo scusa per l'interruzione. Ci hanno colpiti, dicevo, migliaia di chilometri di distanza, ma in verità ci hanno colpiti al cuore. Quindi ecco il senso del richiamo all'ordine dei lavori. Fratelli d'Italia chiede che il ministro Di Maio voglia immediatamente venire a riferire in aula sull'accaduto. Glielo dobbiamo a questi due nobili servitori. Glielo dobbiamo a Luca Attanasi, un uomo il cui profilo era tutto volto agli studi, al merito, alla capacità di portare l'Italia nel mondo, alla sua famiglia. Glielo dobbiamo a Vittorio Iacovacci, caduto in piedi come ogni milite dei carabinieri, innamorato dell'Italia e della sua divisa, sino all'estremo sacrificio di sé. Perché abbiamo sentito la condanna ferma del Presidente della Repubblica, alla quale ci associamo. Abbiamo sentito il Presidente della Repubblica stringersi al cordoglio della famiglia e ci associamo. Abbiamo sentito il ministro degli esteri Di Maio chiedere e pretendere verità dalle autorità congolesi e ci associamo. Però, oltre alla verità con le autorità congolesi, rimangono in evase delle domande ed è questo il motivo per cui chiediamo che il ministro venga immediatamente a riferire. Il viaggio era autorizzato e, se sì, da chi era autorizzato quel viaggio? Sul sito della Farnesina, ricordo a tutti noi, che viene indicato come sconsigliato fortemente viaggiare in quelle aree del Paese. Era indispensabile andare in quelle aree del Paese per visitare il programma alimentare mondiale? Perché l'auto non era blindata? Il comando dei carabinieri del Maeci era informato di questa missione? Perché non è stata richiesta alla missione monusco dell'ONU oppure alle forze armate congolesi una scorta? Perché c'era un solo carabiniere, mentre generalmente la scorta del nostro ambasciatore Luca Tanaggio era composta di due carabinieri? Se mai sia stata effettuata con l'Agenzia della sicurezza esterna italiana una verifica sulla adeguatezza del servizio di sicurezza in quella nazione, in quell'area del Paese, fortemente flagellata da conflitti sanguinari e armati? Quali provvedimenti intenda prendere oggi, non domani, il ministro degli esteri per verificare ovunque la sicurezza della nostra rete consolare delle ambasciate? E se il ministro voglia promuovere immediatamente un'inchiesta interna per verificare eventuali responsabilità? Così noi vogliamo inginocchiarci di fronte a Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci? Così noi vogliamo onorare la memoria di due persone innamorate dell'Italia, della loro missione, il cui cuore batteva in tricolore e che sono caduti in piedi per onorare questa nazione? Non possiamo non fare luce su queste verità ed è questo il motivo per cui chiediamo con compostezza ma con fermezza che il ministro degli esteri venga immediatamente a riferire e non lasci in evase queste terrificanti domande prima ancora di accertare altre responsabilità sul profilo internazionale per capire cosa sia successo nella nostra catena del comando e della sicurezza, se sia evidentemente una cosa imprevista e imprevedibile o se si possa e si debba rafforzare la sicurezza di chi vestendo una divisa o comunque rappresentando l'Italia porta l'Italia nel mondo.